Il pericolo è quello di snaturare la professione, perché compensare carenze e disservizi della struttura in cui si opera va bene, ma solo se l'eccezione non diventa la regola. E invece accade sempre più di frequente che gli infermieri vengano utilizzati come semplici tappabuchi, violando il loro codice deontologico, ma soprattutto abbassando il livello delle prestazioni sanitarie a cui sarebbero preposti. È una piaga diffusa dal nord al sud dell'Italia, dicono a Barletta, dove l'IPASVI-BAT ha organizzato un incontro tra esperti della materia per discutere di demanzionamento degli infermieri. Succede sempre più spesso, hanno spiegato il presidente nazionale dell'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico Mauro Di Fresco e il presidente dell'IPASVI-BAT Michele Ragnatila, che la figura dell'infermire Factotum venga utilizzata all'interno delle strutture sanitarie per espletare funzioni che spetterebbero di diritto ad altre figure professionali come gli operatori sociosanitari. Noi siamo per essere infermieri, vogliamo fare gli infermieri e vogliamo far capire agli utenti a qualsiasi livello che l'infermiere è quel tipo di professionista che ha delle competenze specifiche, specialistiche e che allo stesso modo garantisce e tutela il paziente stesso. Quindi noi abbiamo l'obbligo di tutelare il paziente, ma abbiamo anche il dovere di tutelare la nostra professione che garantisce tutti, a qualsiasi livello. L'infermiere è il futuro, se vogliamo, della sanità. Se la sanità vuole ridurre i propri costi deve far leva sugli infermieri, ma non certo demanzionandoli. L'IPASVI-BAT sta monitorando da tempo questo fenomeno all'interno delle strutture sanitarie provinciali e i dati raccolti sino ad ora dicono che in media sono presenti 17 infermieri a fronte di un solo operatore sociosanitario. Invertire la rotta per tornare a ridare dignità sociale e culturale alla professione infermieristica passa quindi da precise strategie politiche ed aziendali. Noi abbiamo voluto per la prima volta presentare una fotografia della situazione del demanzionamento nella nostra ASL, somministrando dei questionari ai nostri colleghi. Qui si evince che il problema del demanzionamento è molto sentito. Ci sono dei casi eclatanti nel nostro studio, tra cui quello della mancanza della figura di supporto. Infatti da noi c'è un osso ogni 17 infermieri. La situazione doveva essere invece capovolta. Questa sta a significare che comunque la strategia è ben chiara, quella di demanzionare l'infermiere e distoglierlo dalla sua principale funzione che è quella di prendersi cura del paziente.